Naturalmente cercherò di dire che l'intervento sui vari settori che possono essere interessanti diciamo tutta la vita comune, l'edilizia ha bisogno di un intervento a 360 gradi quindi combinare insieme sismica ed energetica in modo tale da avere una messa in sicurezza globale magari con interventi anche economici da parte dello Stato però questo distribuito nel tempo in modo tale da non gravare sul singolo e nemmeno creare delle aspettative fiscali per lo Stato.